Il progetto nasce da un'idea e da una passione, la passione è quella del buon cibo e delle eccellenze gastronomiche e poiché siamo campani o meglio la maggior parte di noi imprenditori di chi hanno inteso collaborare a questo progetto sono campani, abbiamo preferito partire da quelle che sono le eccellenze gastronomiche del Cilento, dalla campania. Per quanto riguarda l'innovazione la nostra idea è sostanzialmente quella di rompere un po' gli schemi, ovvero di uscire dai punti vendita fissi come oggi noi siamo abituati a vederli nelle nostre città e andare per strada, cioè andare a soddisfare quelle che sono le esigenze dei nostri clienti che si trovano per strada e quindi da questo punto di vista abbiamo rotto questo schema, ci stiamo ponendo in una maniera innovativa e stiamo cercando di proporre il tutto attraverso un network in franchising. L'altro elemento che mi piace sottolineare è il fatto che a bordo dei nostri mezzi sono presenti tutta una serie di strumenti che consentono da un lato di poter gestire tutta l'attività da parte dell'affiliato e dall'altra parte di consentire a tutti i nostri clienti di sapere dove siamo, tanto è vero che abbiamo messo a disposizione dei nostri franchising un sistema che consente di geolocalizzare il mezzo e quindi di renderlo visibile sul territorio. I nostri clienti con una semplice app oppure accedendo sul nostro sito hanno la possibilità di verificare dove noi siamo in ogni momento, H24. I nostri punti di forza principali sono rappresentati dal fatto che siamo fuori dallo schema del negozio tradizionale, siamo per strada e possiamo presidiare qualsiasi tipo di evento, non abbiamo bisogno di permessi almeno per quello che è il tipo di licenza che noi richiediamo al nostro affiliato e in questo modo il nostro affiliato una volta che ha la sua licenza ha la possibilità di poter operare su tutto il territorio nazionale senza alcun tipo di problema, questo gli consente anche di cogliere tutte le possibili opportunità di vendita che intorno sul territorio si prospettano, un concerto, una partita di calcio, un evento particolare, non c'è nessun problema con il sistema del franchising e con i nostri mezzi e con la nostra organizzazione è possibile fare tutto questo. L'investimento Questo non è un investimento eccessivo, è sicuramente abbastanza contenuto se confrontato a quelli che sono gli investimenti necessari per avviare una qualsiasi attività commerciale. L'investimento maggiore è rappresentato dall'acquisto del mezzo, il nostro mezzo ha un costo che si aggira di poco superiore ai 30 mila euro, però nel momento in cui l'affiliato aderisce al nostro progetto il mezzo gli viene consegnato pronto per poter essere utilizzato, quindi non deve sostenere nessun altro tipo di costo. L'investimento maggiore è un costo di costo di costo di costo di costo di costo. L'investimento maggiore è un costo di costo di costo di costo. L'investimento maggiore è un costo di costo di costo di costo.